Sì, li ho provati anch'io. I prodotti Guam su di me funzionano davvero. Ma lo sai che ora puoi iscriverti a Black Friday Privato su Guam.it? Puoi farlo entro il 18 per avere dei vantaggi esclusivi con sconti fino al 50% e non solo. E tu, che cosa stai aspettando?